Ciao tifosi Juve, vi porto notizie calde dal mercato bianconero. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità dalla Juventus. Juve Mercato, la Juve tiene d'occhio la situazione di Griezmann. Griezmann potrebbe avere un nuovo destino la prossima stagione oltre al Barcellona o all'Atletico Madrid. Nel bel mezzo del conflitto in cui vive tra i club spagnoli, l'attaccante è un bersaglio della Juventus, secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport. In prestito dal Barcellona, Griezmann è entrato in campo nel secondo tempo e ha partecipato solo agli ultimi 30 minuti delle partite dell'Atletico Madrid in questa stagione. Questo perché c'è una clausola che dice che l'Atletico Madrid dovrebbe pagare 40 milioni di euro al Barcellona se l'attaccante partecipasse per più di 45 minuti al 50% delle partite del club. Se l'Atletico Madrid non è obbligato all'acquisto di Griezmann, la Juventus crede di poter negoziare un trasferimento con il Barcellona per meno della clausola di 40 milioni di euro. L'attaccante ha un contratto con i Cules fino al 2024. Nonostante sia una riserva in questa stagione, l'attaccante ha già tre gol e un assist. Finora, Griezmann ha fatto solo un inizio nella squadra di Diego Simeone. Per la vecchia signora, è un'opportunità per avere un altro grande giocatore nella sua squadra. Griezmann alla Juventus, sarebbe bello o no? Lascia la tua opinione. Arrivederci.